Vado? Vado? Ok Io so quando sono in modo cristiano Eh, la foto, non devo fare... Sì, ho capito Questa è una buona se si vedeva l'altra Chi sta dove vuoi l'ultimo? Cosa? Bella, andate, diretta Fuori non c'è niente, vero? No Ma come vedi questa cosa? Un signore Un signore, quello che è entrato prima E' polvoso E' plausibile Sì, dico, sei attenti Magari viste una cosa appena out Questo signore è là che si vede Era messa all'angolo dell'astare No, sicuramente Non era davanti al supermercato No, davanti al supermercato no Perché non c'era nessuno Questo signore è il supermercato di fronte Questo signore è il supermercato di fronte Io ho la lettura già Grazie